Il censimento della popolazione diventa permanente, da decennale ad annuale, e per la prima volta sarà effettuato a campione, esclusivamente online. Ogni anno saranno coinvolte circa 1.400.000 famiglie, in 2.800 comuni italiani. A partire da ottobre 2018 e dentro il 2021, tutti i comuni parteciperanno almeno una volta al nuovo censimento. La raccolta dei dati e delle informazioni si svolgerà tramite rilevazione da lista con questionario online o tramite rilevazione areale, che prevede la visita di un rilevatore nella propria abitazione. Le famiglie che fanno parte della lista riceveranno una lettera con tutte le informazioni sul questionario online, che potrà essere compilato accedendo al sito Istat con le proprie credenziali. Per avere supporto nella compilazione, si potrà chiamare il numero verde 800 811 177 o recarsi presso uno dei centri comunali di rilevazione. In alcune aree del territorio, invece, le famiglie avvisate tramite locandina e lettera non nominativa riceveranno la visita di un rilevatore e potranno scegliere se rispondere all'intervista presso il proprio domicilio oppure recarsi presso il comune per la compilazione del questionario. Cosa contiene il questionario? Una sezione Lista e schede individuali, che contiene domande socio-economiche su tutti i componenti della famiglia. Una sezione Alloggio, con domande sulle caratteristiche dell'abitazione, sull'edificio e sulla disponibilità di auto e posto auto. Una sezione Informazioni finali, che contiene domande sulle modalità di compilazione e sui canali di comunicazione. Informare, evolvere, comprendere. Rispondere al censimento è un obbligo di legge. Scopri di più sui nostri siti.